guardami, si, cerca di girare tutta sotto te, con la testa sotto, tutto il giro a testa sotto e poi ve lascia scendere dalla verticale, vai, ok, non incrociare i piedi però, vai, brava, non incrociare i piedi, vai, vai su, gira, ok, vabbè, vai, veloce a girare Bartolino e braccio a basso, ecco, vedi che quando c'è...